furti in diversi esercizi commerciali della città arrestato 22 anni movì da inviare trieste incontro tra amministrazione comunale e titolari dei locali presentato il cartellone estivo degli eventi pesaresi due nuovi comuni e le grotte di frassassi entrano nella guida dell'itinerario della bellezza una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News in apertura parliamo di cronaca perché è stato arrestato dalla squadra mobile di Pesaro della polizia di stato un 22enne egiziano responsabile di svariati furti ai danni di diversi esercizi commerciali della città e non solo gli investigatori dopo averlo rintracciato a Fano hanno eseguito la misura della custodia cautelare per il soggetto presente in Italia da diversi anni ma senza una fissa dimora il giovane era stato già arrestato in flagranza di reato nella notte del 14 maggio scorso nel tentativo di effettuare un furto all'interno di un ristorante del centro città che è stato interrotto grazie alla segnalazione di un cittadino e al rapido intervento della squadra volante della questura di Pesaro le seguenti indagini compiute dagli investigatori insieme alla polizia scientifica hanno poi permesso di attribuire al 22enne la responsabilità di altri furti consumati ai danni di esercizi commerciali cittadini situazioni che hanno permesso di considerare grave attuale il pericolo che il giovane egiziano potesse commettere ancora reati simili vista la particolare scaltrezza e il brevissimo lasso di tempo intercorso tra i vari episodi di furto e ora cambiamo pagina e parliamo di sicurezza e di controlli nella zona della Movida perché si è tenuto questa mattina in comune un incontro tra l'amministrazione e i titolari di diversi locali situati in Viale Trieste dopo le recenti discussioni venutesi a creare per episodi di assembramento che hanno suscitato il malcontento tra residenti e tra alcuni gestori degli hotel del lungomare il racconto in questo primo servizio Cercare collaborazione tra le realtà presenti sul lungomare intervenendo in maniera pratica con un'intensificazione dei controlli nelle aree limitrofe alle attività commerciali Sono queste le considerazioni emerse dall'incontro che ha avuto luogo questa mattina in comune tra gli assessori Francesca Frenquellucci con delega alle attività economiche e Riccardo Pozzi con delega alla sicurezza insieme ad alcuni titolari dei locali situati in Viale Trieste Incontro nato a causa del dibattito venutosi a creare nelle ultime settimane per le contestazioni mosse da alcuni gestori di hotel che con la ripresa della Movida lamentano episodi sfavorevoli per i turisti ospiti delle strutture ricettive alle quali hanno poi risposto i titolari dei locali della zona sottolineando che per limitare assembramenti e situazioni di disturbo sono state assunte privatamente apposite figure Il confronto serviva a trovare un giusto equilibrio un giusto equilibrio tra quelle che sono i desideri dei giovani di tornare a divertirsi la richiesta delle attività di continuare e di riprendere a lavorare come prima del Covid e dall'altra parte anche quello dei turisti che vengono a Pesaro o dei pesaresi che hanno delle attività che non vorrebbero dover subire quelli che sono talvolta dei disagi che tante persone possono creare quindi in questo confronto abbiamo cercato insieme a loro di trovare una collaborazione così come abbiamo tra l'altro condiviso anche con l'associazione di categoria nella scorsa settimana e anche in un confronto con gli albergatori qualche giorno prima cercare di trovare un compromesso, un equilibrio che però non è semplice non è semplice a Pesaro, non è semplice in nessuna parte d'Italia è una zona del lungomare, è una zona che vorrebbero vivere giustamente i turisti così come vorrebbero vivere i tanti giovani che vivono in città si è richiesto un'intensificazione dei controlli in quella che sono i luoghi nelle immediate vicinanze di quelle che sono le attività le attività dicevano all'interno del nostro riusciamo a gestire i giovani all'interno di quelle che sono i nostri confini però fuori avremo bisogno di una maggiore passaggio di più attenzione su questo noi su questo ci concentreremo sia con le forze che abbiamo a disposizione con la polizia locale interloquiremo anche con le altre forze dell'ordine sapendo che, ripeto, è un equilibrio difficile però sul quale cercheremo di essere presenti abbiamo fatto questa riunione in comune per ribadire la nostra massima disponibilità a collaborare sia con le forze dell'ordine che con l'amministrazione comunale per far sì che quest'estate vada avanti e scorra nel miglior modo possibile in sicurezza quindi noi già lo stiamo facendo adottando misure di sicurezza assumendo dei ragazzi della security che ci danno una mano in questo senso dalla parte dell'amministrazione comunale ci saranno una collaborazione da parte loro nel cercare di gestire i possibili assembramenti che si andranno a creare nei momenti di chiusura del locale o comunque non all'interno del nostro locale si tratta di collaborare fra tutti quindi locali, amministrazione, albergatori e bagnini perché tutti quanti ci stiamo dando da fare per lavorare, per cercare di rispettare le norme però ci deve essere collaborazione da parte di tutte le parti in causa La situazione è quella che è, siamo comunque in un momento di riapertura dove tutti hanno un po' bisogno di rivivere la propria vita sociale non è facile ovviamente prevedere quello che può succedere però chiaramente nell'attesa che possano riaprire anche tutte quelle attività che garantivano un servizio nella seconda serata in quella che è considerata la seconda serata cercheremo di fare il possibile per collaborare sicuramente sì, un sostegno da parte delle forze dell'ordine in strada è necessario perché più là di un certo punto né noi né nel nostro servizio privato può intervenire La pagina degli aggiornamenti covid sul territorio nelle ultime 24 ore sono stati testati 1864 tamponi 817 nel percorso nuove diagnosi di cui 235 nello screening con percorso antigenico e 1047 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati dell'1,6% i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 13 con 3 nuovi casi registrati nella provincia di Pesaro Urbino il servizio sanità ha inoltre notificato un nuovo decesso legato al covid-19 sul territorio regionale la vittima era residente nella provincia di Ancona e tra le attività ancora soggette a chiusure e restrizioni a causa del covid ci sono le discoteche e i locali di intrattenimento c'è attesa per la decisione del comitato tecnico scientifico che tornava a riunirsi oggi per valutare modalità e tempistiche di riaperture riaperture in sicurezza chieste a gran voce da diverso tempo dal sindacato italiano locali da ballo ce ne parla nella prossima intervista il segretario provinciale Marco Arzeni oggi dovrebbe essere proprio il giorno del giudizio in effetti il comitato tecnico scientifico si riunisce oggi per esprimere un parere su questa potenziale riapertura delle discoteche e dei locali di intrattenimento poi sarà il ministro a decidere eventualmente la data e così via ma finché non c'è un parere positivo del comitato tecnico scientifico francamente la vedo dura le prospettive ci sono, sono buone abbiamo visto che moltissime istanze sono state recepite da parte del nostro sindacato da parte del SILB Confcommercio per una riapertura che ricordo comunque è una cosa graduale perché intanto adesso se dovessero riaprire riaprirebbero le discoteche all'aperto che comunque sono una minima parte rispetto al comparto nel suo complesso però intanto è un segnale, è un segnale di ritorno alla normalità anche per un tipo di attività che ricordiamo sono dal febbraio del 2020 che sono chiuse ormai sono 15-16 mesi che le discoteche non lavorano a parte una piccola parentesi estiva dell'anno scorso di neanche un mese e quindi sono aziende che sono sotto stress sono aziende che sono arrivate al limite e non si capisce questo ormai accanimento verso questo settore nel momento in cui ormai tutti hanno riaperto noi chiediamo di riaprire, chiediamo di riaprire con cautele chiediamo di riaprire con determinati servizi però chiediamo di riaprire, non è pensabile stare un anno e mezzo chiusi un'attività non è pensabile considerando che nel suo complesso ci sono circa 3.000 locali di pubblico spettacolo di questi 3.000 un 10% saranno quelli estivi e c'è un indotto tutto compreso che è fermo perché la discoteca non è solo il locale da ballo, è solo il DJ la discoteca muove come minimo nella nostra tipologia 5, 10, 15 persone per locale considerando che abbiamo una trentina di locali di questa tipologia nella nostra provincia si fanno presti conti fortunatamente le devo dire che nella nostra provincia non ci sono tantissime discoteche pure semplici cioè la discoteca classica come può essere la Baia piuttosto che altri tipi di locali da noi esistono locali multitasking dove si abbina molto spesso anche l'aspetto della ristorazione e quindi non sono discoteche dove vanno principalmente i ragazzini ma spesso ci va gente adulta quindi fermare un locale dove è composto da gente adulta che sta al tavolo a mangiare e poi va a fare il ballo mi sembra ridicolo francamente e dopo quelli di Gabice e Vallefoglia sono stati presentati gli eventi ufficiali che costituiscono il ricco cartellone dell'estate pesarese musica, spettacoli, cibo e tanto altro per un totale di circa 300 appuntamenti un'estate in cui protagonista sarà l'intera comunità grazie ad un cartellone di circa 300 eventi che conferma le principali rassegne della stagione e apre ad appuntamenti quotidiani dislocati tra borghi e quartieri si chiama Pesaro verso l'estate e oltre il programma che racchiude l'intero panorama di manifestazioni estive per la stagione 2021 presentate dal vice sindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini a bordo del We Pesaro Express rinnovato con nuove fermate è una guida molto importante perché permette di dire giorno per giorno cosa accade ai turisti che arrivano ma anche i pesaresi di orientarsi quindi creare quel connubio che piace molto a chi viene a Pesaro di ritrovarsi non tanto in iniziative appartamente turistiche ma di condividere spazi, emozioni e serate con i pesaresi e anche con il loro modo di essere detto questo, a parte le iniziative che abbiamo presentato oggi tra le altre il We Pesaro Express in versione estiva che potenzia ovviamente quello che è il servizio invernale del periodo natalizio non solo collegando il Vene Trieste, non solo collegando il Centro Amare ma la novità di quest'anno e simbolico anche il punto in cui ci troviamo è l'arrivo in Baia Flaminia passando per i due porti La rassegna Pesaro, i tuoi spazi tra borghi e quartieri animerà con un appuntamento al giorno ogni quartiere della città l'Anfiteatro del Parco Miralfiore sarà per l'intera stagione il palcoscenico degli spettacoli inseriti all'interno di Miral Teatro d'Estate mentre il Centro Storico ospiterà cibo, musica e intrattenimento grazie a diversi appuntamenti tra cui il San Pietrino Summer Street ogni martedì Via Cavour in Festa e il Mercatino dell'Antiquariato Luglio tra i vari eventi segnerà il ritorno da giovedì 1 a sabato 3 di Pop Sofia e della Mezzanotte Bianca dei Bambini fissata invece per domenica 4 dalle ore 18 Ad agosto si alzerà il sipario sulla 42esima edizione del Rossini Opera Festival che andrà in scena dal 9 al 22 nelle cornici del Teatro Rossini del Teatro Sperimentale dell'Auditorium Scavolini e della Vitrifrigo Arena Il 10 agosto invece sarà la volta di Candele Sotto le Stelle che quest'anno si allarga anche a Gradara e Gabice Con fiducia andiamo avanti a confermarlo andiamo avanti ad estenderlo alla riviera del San Bartolo quindi con Gabice Mare lo scorso è stato un abbraccio fantastico con le candele in acqua fino a tutta la costa di Gabice e ovviamente anche Gradara nel borgo di Gradara anche con loro collaboreremo per fare in modo che le candele non riflettano in questo caso l'immagine sull'acqua ma possano con anche la suggestione di Paolo e Francesca di uno dei borghi più belli d'Italia del Borgo dell'Amore e anche dell'anno dantesco essere un grande protagonista di questa notte delle candele che confermiamo per il 10 agosto poi come sempre salvo aggiustamenti per le condizioni di meteo e dell'acqua tanti quindi gli eventi presenti in cartellone che dal 10 al 12 settembre vedrà anche il ritorno della fiera di San Nicola il vice sindaco Vimini ha inoltre annunciato che la stagione turistica potrebbe contare su appuntamenti e serate organizzate in Piazzale della Libertà siamo già in realtà al lavoro a proposito di iniziative turistiche in generale che ad esempio Piazzale della Libertà dal 10 luglio in cui si prevede che possono riaprire anche le discoteche che possa essere ad esempio tornare a essere un paio di volta tra settimane anche un luogo per il ballo, per il liscio per i turisti e per l'accoglienza come sempre è stato e magari posso ospitare anche di concerti quindi non escludiamo soprattutto per il periodo candele che poi abbraccia anche il ferragosto di inventarci qualcosa di estemporaneo rispettoso delle normative che ora si stanno via via allentando e che possa tornare a far respirare quel clima anche di festa responsabile ma che ha fatto innamorare tanti turisti di Pesaro e anche fatto tornare regolarmente a visitare la nostra città Ed è stata presentata questa mattina nella cornice di Villa Miralfiore la nuova guida dell'Itinerario della Bellezza progetto a cura della Conf Commercio di Pesaro e Urbino in servizio di Andrea Sabatini È stata presentata questa mattina presso Villa Miralfiore la quarta edizione dell'Itinerario della Bellezza L'importante progetto della Conf Commercio di Pesaro e Urbino porta con sé due importanti novità dall'adesione di due nuovi comuni come Sasso Corvaro di Auditore e Tavuglia fino alla partecipazione di un partner di eccellenza come le grotte di Frassassi Abbiamo scelto Villa Miralfiore una location prestigiosa bellissima perché presentiamo l'Itinerario della Bellezza e quindi non potevamo che scegliere una location di prestigio considerando poi che avremo con noi i sindaci gli amministratori dei 13 comuni che partecipano quest'anno all'iniziativa che è appunto una delle novità dell'edizione 2021 è il numero dei comuni che partecipano all'iniziativa e che hanno affidato alla Conf Commercio l'incarico di essere valorizzati e promossi che sono appunto 13 con nuove entrate del comune di Sasso Corvaro Auditore e il comune di Tavuglia è un progetto, quello dell'Itinerario della Bellezza molto complesso non è solamente la realizzazione di una guida seppur bella ma è un progetto complessivo di marketing turistico che utilizza tutti gli strumenti del marketing per valorizzare adeguatamente queste località e quindi blog, web, social carta stampata, riviste specializzate partecipazione a fiere insomma tutto quello che è possibile fare in maniera coordinata anche con il supporto del nostro tour operator di Riviera Incoming per valorizzare queste 13 località da oggi poi con la presentazione della guida che ovviamente sarà diffusa già dalle prossime ore negli uffici di informazione turistica negli alberghi è anche pubblicata nei nostri due portali ascompesaro.it e lemarche di Urbino.it in modo che la gente può anche scaricare il pdf da oggi ripartono le iniziative di valorizzazione e di promozione e poi parte la stagione delle fiere in giro per l'Europa visto che al mondo ancora sarà difficile andare quindi abbiamo la fiera di Padova che è una fiera dedicata alle città Unesco quindi al centro dell'attenzione ci sarà Urbino e la città creativa di Pesaro come città creativa per la musica abbiamo la fiera di Bergamo abbiamo la fiera di Rimini la fiera di Londra la fiera di Parigi e la fiera di Varsavia e la fiera di Pestum l'itinerario archeologico che si svolge 30 settembre e 3 ottobre quindi tante iniziative per raggiungere i risultati di un aumento dei flussi turistici pur con le difficoltà che derivano dalla limitata partecipazione dei turisti stranieri nel nostro paese in causa Covid però insomma cerchiamo di aumentare le presenze rispetto all'anno 2020 Complimenti al commercio di Pesaro al dottor Barotti per aver ideato e pensato negli anni passati questa idea di promozione anche turistica e culturale come Camera di Commercio siamo in linea perfettamente noi abbiamo proprio poco tempo fa un mese e mezzo fa presentato uno studio sui borghi e la valorizzazione di questi borghi in termini turistici per quando riguarda la cultura per quando riguarda i musei che loro hanno dentro ma non solo questo anche per le attività commerciali che ci sono all'interno dei nostri borghi questo progetto di Varotti può essere integrato perfettamente sulla nostra idea di un borgo giovane un borgo che può dare vitalità può far tornare molti giovani all'interno di queste aree e poter anche economicamente essere sostenibile per chi vuole aprire un'impresa o un'attività in questi luoghi e si concluderà domani sabato 26 giugno la 57esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro che si aprirà come di consueto al Cinemastra per l'ultimo Q&A con i registi del concorso grande appuntamento finale in Piazza del Popolo dove a partire dalle 21.30 ci sarà la cerimonia di premiazione che vedrà assegnare i premi delle due giurie del concorso Pesaro Nuovo Cinema i premi dei concorsi collaterali il premio del pubblico assegnato dagli spettatori di My Movies e il premio Lino Miciche per la critica cinematografica ci spostiamo a Vallefoglia perché in pieno svolgimento nel territorio comunale il progetto denominato Ci sto a fare fatica facciamo il bene comune il progetto interessa i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni che nello specifico del territorio di Vallefoglia vengono occupati in lavori di riqualificazione urbana nei centri storici di Colbordolo Montefabri e Sant'Angelo e Lizzola nonché nei parchi pubblici comunali delle diverse frazioni dei territori e poi domenica 27 giugno alle ore 21 prende il via il cartellone di Interludio 2021 nella cornice dell'arena l'aperto al parco Miralfiore a dare il via ai 5 concerti proposti dall'ente concerti di Pesaro le note di Fabrizio Bosso e del suo quartetto che porterà a Pesaro il nuovo progetto discografico biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket o nelle biglietterie del Teatro Rossini e dell'Arena Miralfiore continuiamo con le notizie perché arriva domenica Libere di Corsa 2021 gara staffetta di promozione sociale contro la violenza di genere promossa dal Lions Club della Rovere di Pesaro le associazioni percorso donna Panatron International Pesaro e Atletica Banca di Pesaro sentiamo il racconto dell'iniziativa nelle prossime interviste Libere di Corsa è un evento podistico a staffetta a scopo ludico motorio organizzato da percorso donna Lions Club Pesaro della Rovere Atletica Banca Pesaro e Panatron International Pesaro è un evento che si terrà domenica 27 giugno alle 9 ore 9 con partenza in piazzale della Libertà a Pesaro è un service Lions quindi un evento che è stato fatto a scopo solidare per una raccolta fondi per supportare la causa di percorso donna contro la violenza di genere e che è stato realizzato mettendo attraverso lo sport quindi attraverso un evento che potesse essere accessibile a tutti e che unisse i cittadini la città di Pesaro infatti importantissimo è stato il patrocinio del comune di Pesaro intorno ad un evento divertente che promuovesse la salute l'idale della comunità e dell'unione Libere di Corsa sarà l'evento iniziale di lancio del festival percorsi che quest'anno è percorsi in tour quindi dal 27 giugno con Libere di Corsa si parte e si conclude il 4 luglio con la veleggiata con le 10.000 vele di solidarietà quindi due eventi sportivi che aprono e chiudono un festival di una settimana all'interno del quale potete partecipare a tantissimi appuntamenti e seguirci sui temi che ci sono più cari contrasto della violenza di genere prevenzione e solidarietà quest'anno si parla di parole si parla di linguaggio quindi contrasto ai comportamenti violenti attraverso un linguaggio corretto la scelta delle parole da usare per la prevenzione e il contrasto della violenza ringraziamo il Service Lions della Rovere Pesaro che ci ha consentito una splendida iniziativa una grande raccolta fondi che consentirà a percorso donna all'interno anche del centro antiviolenza parla con noi di supportare progetti di prevenzione e di uscita dalla violenza è stata presentata ieri e sarà ufficialmente inaugurata domani sabato 26 giugno la mostra dell'artista olandese Will van der Lann al Museo dei Bronzi Dorati della città di Pergola mostra che vi racconteremo con uno speciale in onda lunedì sera in prima serata su Rossini TV e che vi anticipiamo con questo prossimo servizio la Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord anche a nome dell'amministrazione comunale di Pergola e dell'azienda Capalazzo ci invita all'inaugurazione ufficiale della mostra Imperatori Romani in bronzo la mostra si svolge presso il Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola ed è ad opera di un artista olandese Will van der Lann siamo vicini ad una data importante che è quella che ricorda il ritrovamento dei bronzi dorati che abbiamo la fortuna di custodire qui nel nostro museo sono ben 75 anni trascorsi dall'ora i bronzi hanno subito varie vicissitudini la nostra popolazione ha sempre lottato molto affinché potessero rimanere a Pergola adesso è così e ci sembrava ecco l'occasione giusta da cogliere non potevamo non coglierla per evidenziarli maggiormente per invitare maggiormente le persone a venirci a trovare e a venire a visitare il museo quindi questa mostra è sicuramente un'occasione in più per visitare il nostro museo la mostra verrà inaugurata sabato 26 proprio in occasione della data del 75esimo del ritrovamento appunto e rimarrà allestita fino al mese di ottobre quindi ci saranno molte occasioni un periodo molto lungo per poterla visitare il nostro museo nei mesi estivi sarà aperto tutti i giorni molto bella da visitare la sala immersiva appunto che custodisce i bronzi dorati in seguito alle limitazioni dovute al covid ci sono dei numeri ecco così da rispettare per quanto riguarda le entrate e la visione all'interno per la proiezione quindi io invito tutti comunque a consultare il nostro sito del museo e a contattare anche il personale che qui lavora in modo da organizzarsi per la visita nella maniera migliore ha diversi anni gestiamo in convenzione con il comune il museo dei bronzi dorati e da alcuni anni la città di Pergola fa parte del nostro itinerario della bellezza un itinerario della bellezza che quest'anno mette insieme in rete 13 comuni ma all'interno di questo progetto dell'itinerario della bellezza noi estraiamo periodicamente delle pillole dei percorsi da proporre ai turisti uno di questi è l'itinerario archeologico dove noi intendiamo e cerchiamo di valorizzare il percorso lungo la via Flaminia quindi da Cagli fino a Pesaro passando appunto per Pergola per Fossombrone per Saltara con il salone dei mosaici di Saltara Fano e Pesaro e quindi Pergola è una parte fondamentale anche perché il museo dei bronzi dorati voglio ricordarlo è unico al mondo non c'è un altro gruppo equestre di epoca romana di bronzo dorato così in nessuna parte del mondo è un po' come se i bronzi dorati fossero gli ambasciatori delle marche nel mondo e questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo però la prima serata di Rossini TV questa sera alle 21.15 potrete assistere allo speciale dedicato Antico Borgo Giovani Artisti progetto della Proloco di Montemaggiore al Metauro questa sera lo speciale alle 21.15 su Rossini TV e poi a seguire alle 21.30 un altro speciale questa volta dedicato alla 22esima assemblea elettiva della CNA di Pesaro e Urbino ripartire insieme l'informazione poi torna puntuale ovviamente in diretta domani mattina alle 7.20 con una nuova edizione della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e alla conduzione ci sarà Antonio Stuti domenica sera un nuovo appuntamento anche con Wine & Lux aria alle 20.30 gli ospiti di questa nuova puntata saranno il titolare dell'Alexander Museum Palace Hotel il conte Nani Marcucci Pinoli il direttore di Candele a Candelara Giorgio Pietrelli lo chef del ristorante Marcello Lorenzo Zappi e infine i titolari del ristorante Marcello Giovanni e Marcello Nicolini vi ricordiamo inoltre che su tutti gli store digitali è possibile scaricare la nostra nuova applicazione attraverso la quale potrete seguire la programmazione di Rossini TV in diretta 24 ore su 24 oppure rivedere le notizie e i programmi già andati in onda grazie quindi per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV